Ciao a tutti nabboni, come va? A me benissimo. Beh siamo quasi arrivati a 130 iscritti, non vedo l'ora di arrivare al traguardo. Oggi volevo mostrarvi il nuovo update. Minacraft 1.4.2 Come potete vedere ci sono nuove cose. Ma non osservate la texture, ma gli oggetti, come le teste, le incudini e i quadri in cui è possibile metterli oggetti dentro. Ecco, ora mi metterò una testa di steve, e mi toglierò quella da zombie. Le teste le potete trovare in blocchi decorativi. Per mettere gli oggetti nei quadri basta premere il tasto destro, con l'oggetto che avete in mano, e vi sarà possibile vederlo nel quadro. Queste sono le incudini. È possibile modificare il nome, di alcuni oggetti. Non vi mostro, come funzionano perché penso che avrete già visto i video dei vecchi snapshot. Con questo vi saluto, vado a fare la nuova serie di Minacraft in 3D. Ciao a tutti nabboni, alla prossima.